Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. E' ancora caldo, caldissimo la temperatura per quanto riguarda la politica nazionale e non solo. Dopo il voto in Emilia Romagna e in Calabria, ma soprattutto anche per quanto era stato caricato di enfasi il voto in Emilia Romagna, evidentemente si stanno muovendo anche le forze in Toscana in vista delle prossime elezioni. E' uscita, come sappiamo, sconfitta la Lega e quindi anche e soprattutto nel centro-destra ci sono dei grandi movimenti sotterranei in vista del candidato da contrapporre a Eugenio Gianni, invece che già da tempo scalda i motori per il centro-sinistra. Noi parleremo di questo, ma parleremo anche di Arevasta, parleremo di Grande Firenze, di viabilità e molto altro con due sindaci della zona sud di Firenze, noi abbiamo titolato così, Francesco Casini, sindaco di Bagnaripoli. Buonasera e benvenuto. E buonasera a Cristiano Venucci di Reggello. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, vorrei innanzitutto partire un po' da quello che è il commento del voto in Emilia Romagna, un po' perché c'era stato una sorta di abbaglio generale per cui, insomma, molti pensavano che fosse molto più contesa la partita e anzi, insomma, il Partito Democratico partisse da dietro. Invece Bonaccini ha vinto e ha vinto di larga misura. Con quale ingrediente fondamentale, secondo lei, Casini? Beh, intanto sicuramente Bonaccini ha vinto grazie al buon governo di questi anni, quindi ha un'esperienza approvata, ha un lavoro sul territorio, parlando di contenuti veri, parlando sui posti, sui luoghi. Quello che dovrà fare anche il centrosinistra è che il presidente Eugenio Gianni sa fare molto bene, quindi a questo punto di vista credo che sia un po' la chiave del successo di Bonaccini e in generale un po' che riporta anche ai successi della scorsa tornata alle amministrative, dove si è parlato di contenuti, si è parlato di temi concreti che interessano i cittadini, ma soprattutto con una costante presenza sul campo da parte dei protagonisti e da parte soprattutto dei candidati. Questo credo sia un po' la chiave di volta e anche vincente. Sicuramente poi il voto dell'Emilia era un voto carico di significato politico, anche nazionale, e questo probabilmente è stato un po' un boomerang per il centrodestra, in modo particolare per la Lega, e si è rivelato invece vincente la strategia anche del PD di lavorare, come si diceva prima, insomma tra la gente, tra le persone e in qualche modo restando aperte anche a quelli che sono i movimenti anche nella società a partire dal movimento delle sardine. Tra l'altro ci sono un paio di temi che mi piacerebbe analizzare con voi. Benucci, perché uno dei temi è la polverizzazione da una parte del Movimento 5 Stelle in Emilia Romagna e dall'altra però anche di Forza Italia, che è un partito che ha ottenuto dei risultati veramente bassissimi. Il sintomo che anche nelle prime analisi del voto sembra emergere, molti appartenenti a quel partito, all'area dei moderati, diciamo così, di centrodestra, hanno scelto Bonaccini, se non addirittura con un voto disgiunto, anche direttamente sulla scelta del candidato, perché evidentemente dava più garanzie in alcuni mondi, in particolare che evidentemente erano cari a quell'area. In Toscana, secondo lei, è automatico che tutto quel mondo si sposti su Italia viva di Matteo Renzi o in qualche modo il PD riesce anche con i propri candidati, come nel caso di Bonaccini, a intercettarli? Di automatico non c'è niente. Io penso semplicemente che ciò che è successo in Emilia è frutto di una campagna in cui i toni sono stati alzati da Salvini, urlati per certi versi e si è contrapposta alla concretezza, alla pacatezza di Bonaccini. L'elettorato di Forza Italia, per lo più del certo medio, di elettori moderati, ha preferito rivolgersi su Bonaccini anziché sulla ricetta Salvini, che poteva parere a loro un azzardo. Stiamo parlando di una regione dove il governo uscente poteva portare significativi risultati, dove c'è una qualità della vita alta, una qualità dei servizi alta. L'elettorato moderato ha preferito probabilmente mantenere una guida certa rispetto a una guida azzardata che sarebbe stata la vittoria della Bolgonzoni. C'è anche un altro fattore abbastanza importante, perché Bonaccini è riuscito, evidentemente anche un'altra delle chiave della sua vittoria, a tenere insieme un campo molto ampio. A sinistra di Bonaccini c'erano tre liste che in totale hanno fatto l'1%, diviso in 0-3, 0-3, 0-4. Però in Toscana la situazione è leggermente diversa. Lo ha chiarito in qualche modo ieri Jacopo Alberti, parlando della Lega, del Consiglio regionale della Lega, parlando delle liste che oggi appoggiano gli eugiani, ovviamente dal suo punto di vista e quindi da candidato, o comunque da portavoce della Lega in questo caso. Sentiamo Alberti. È un risultato secondo noi individuale straordinario, perché abbiamo più che raddoppiato i voti nel 2014. Siamo il secondo partito, siamo lì con il Partito Democratico, al 32% in Emilia Romagna non ci saremmo mai aspettato. E diciamo le cose come stanno. Se fino a cinque anni fa non c'era partita, quindi il PD vinceva senza nemmeno iniziare la campagna elettorale, l'aveva già vinto. Oggi Bonaccini e tutti i partiti e le sigle di sinistra l'hanno sostenuto hanno sudato, no, sette camicie, 70 camicie per uno. Vorrei in Toscana la presenza fisica di Matteo Salvini, come ha fatto in Emilia Romagna, è che quando andiamo a votare in Toscana voteremo anche per altre regioni, sarà difficile averlo quasi tutti i giorni in campagna elettorale. Poi è importante la politicizzazione di uno scontro, e per fortuna c'è stato. Poi dobbiamo prendere atto che l'aumento della percentuale dei votanti ha avuto come premialità Bonaccini e tutte le sigle l'hanno sostenuto. Questo dobbiamo prenderne atto, è vero. In Toscana invece la differenza, e voglio ricordare, è che le famose 18 sigle che il Gianni sta aggregando come coalizione centro-sinistra, naturalmente valgono zero. Mentre nessuno ricorda, il mio collega nel Consiglio regionale che ha la lista di sinistra, sì Toscana a sinistra, che non sarà in coalizione con Gianni, che nel 2015 una sigla al di fuori del PD aveva raccolto il 6,5%. In Toscana Fattori non sta con Gianni, le altre sigle che lo appoggiano contro zero, dice Alberti, non è evidentemente così, però c'è un dato su questo. Evidentemente, forse in Toscana, la separazione tra la sinistra e il centro-sinistra che appoggia invece Gianni può dare qualche problema al Partito Democratico, oppure è una occasione? Ma no, ogni storia ha una storia a sé, poi ripeto, la capacità che sicuramente ha Eugenio Gianni è quella di essere un abile anche uomo politico, quindi un uomo anche di grande apertura, di dialogo, che sa tenere insieme anche più forze, come è giusto che sia, una coalizione, quindi grande apertura, capacità di conoscenza del territorio, e quindi anche sul suo nome vedrete che ci saranno persone anche magari di orientamento politico diverso, ma che converranno su di lui. Per cui ogni storia è a sé. Io sono convinto che bisognerà fare un campo allargato, anche in Toscana, però ho grande fiducia perché la Toscana è una terra, per certi versi, diversa, ma anche molto simile all'Emilia Romagna. Per cui io credo che non sarà una singola lista a fare la differenza, ma un progetto, un programma, sul quale si confronteranno poi le varie forze politiche, dove il perno non potrà che non essere il Partito Democratico, che sicuramente ha le capacità, le caratteristiche, gli uomini, una classe dirigente all'altezza, per poter vincere una sfida così. Cosa che, francamente, Alberti farà i commenti che preferisce, è una sua valutazione. Va piacere vedere che sta attento alle dinamiche del centro-sinistra, forse in lui starei più attento alle dinamiche del centro-destra, perché al momento mi sembra davvero in alto mare, in cui la discussione sul candidato non sta avvenendo, come sta avvenendo invece nel centro-sinistra, basato su una persona di capacità, di comprovata esperienza amministrativa, ma soprattutto di un'ampia conoscenza del territorio toscano, come è anche stato lo stesso Stefano Bonacini in Emilia Romagna, e piuttosto si sta abdicando a una scelta che riguarda più livelli nazionali, e quindi una scelta partita che verrà calata dall'alto. Per cui sono sfide diverse, però il centro-sinistra, anche in Toscana, da questo punto di vista, parte con grandi vantaggi. E anche perché appunto dall'altra parte, come ricordava giustamente Casini, i tempi si allungano e non poco, proprio insomma in questi giorni, evidentemente dopo il voto di Emilia Romagna, anche gli alleati della Lega, nonostante la Lega abbia i voti, gli alleati di Forza Italia e Fratelli Italia, soprattutto che comunque è un partito vitale, ha dato l'immagine di sé di un partito che cresce nei consensi, evidentemente potranno avanzare delle richieste, delle proposte anche sul candidato in Toscana, con una voce un po' più grossa di sabato, insomma di quello che era prima delle elezioni in Emilia Romagna. Senta Benucci, oggi c'è un editoriale di De Robertis sulla Nazione che avanza l'ipotesi di Matteo Renzi che potrebbe candidarsi in Toscana, dice la novità che sta maturando nella testa dell'ex sindaco di Firenze è quella di candidarsi lui personalmente alla guida di una lista di Italia Viva che appoggia il suo amico Eugenio Gianni, candidato PD, dando vita a una sorta di derby dell'ex Giglio Magico dai risvolti poco prevedibili. E' plausibile secondo lei? Può darsi, Italia Viva presenterà la sua lista a sostegno di Gianni e rappresenta un tassello importante della coalizione insieme al PD e alle altre forze politiche. Certamente se ci fosse una candidatura di Renzi vorrebbe dire che i big nazionali scendono in campo per la regione toscana, quindi non ne so niente, però ovviamente se c'è un editoriale che riporta questa notizia penso che sia una delle ipotesi. Sarebbe un buon segno secondo lei i leader nazionali scendono sulle questioni regionali perché insomma in Emilia Romagna quando lo ha fatto Salvini evidentemente poi non ha pagato tanto quanto lui pensava. Io penso... È una questione di metodo invece. Io penso che sulle regionali debbano concorrere coloro i quali hanno qualcosa da dire sulla regione ovviamente, che possono portare un contributo alla politica regionale. Salvini, come gli rinfacciava giustamente Bonaccini, è andato in Emilia soltanto per fare la campagna elettorale e sarebbe uscito il giorno dopo. Quindi lui l'ha definito un ospite. È stato un voler portare la sfida sul livello nazionale quando doveva stare all'interno della regione. Noi voteremo per la regione toscana, tutti coloro che hanno da portare qualcosa per la Toscana sono un valore aggiunto. E penso in generoso il giudizio di Alberti sulle 18 liste che sostengono Gianni perché poi aver costituito e aver costruito un campo vasto di forze politiche più rappresentative altre meno rappresentative rappresenta un valore aggiunto. Bonaccini ha vinto anche perché tanti sindaci, oltre 200, alcuni dei quali avevano battuto il PD, quindi stavano su altri campi, hanno sostenuto la sua candidatura, è nata dal territorio, quindi il territorio che ha scelto per certi versi il suo presidente. Su questo, chiudiamo questa prima parte, su questo, nella seconda, verremo ai nostri temi locali, però c'è anche un ragionamento, sembra uscire Casini dal voto dell'Emilia Romagna una sorta di ritrovato bipolarismo. Ieri sempre Alberto diceva più che bipolarismo è un bipartitismo perché Lega e Partito Democratico in questo dubbio prendono insieme il 65% di voti, ma al di là di questo anche le coalizioni sono schiacciate, come dicevamo c'è molto poco al di fuori di queste due coalizioni. Questo, secondo lei, imporrà anche un cambio di ragionamento per quanto riguarda la legge elettorale? E poi, come dire, siamo sempre un po' a farsi la stessa domanda. L'Italia è un paese proporzionale o un paese maggioritario? Questo è difficile da dire anche se nella mia vocazione con la nascita del Partito Democratico in particolare io ho sempre stato per in qualche modo il sistema maggioritario. Io credo che poi anche i cittadini alla fine preferiscono un sistema semplificato. Naturalmente, l'emergere negli ultimi anni del Movimento 5 Stelle ha dato e che è cresciuto moltissimo anche con le elezioni del 2018 ha dato la sensazione di poter ricreare un sistema in cui quantomeno tripolare. I dati dimostrano in realtà che poi la prova dei fatti la concretezza della prova del governo ha messo il Movimento 5 Stelle sicuramente in una condizione differente rispetto a quella che era ante le elezioni politiche del 2018. È da vedere il sistema come è l'Italia. difficile dirlo prevalentemente io ho sempre preferito un sistema a maggiorità almeno negli ultimi anni che semplificasse che comunque in ogni caso desse stabilità. Io credo se uno mi dice che cosa più che altro c'è bisogno per l'Italia credo un sistema semplificato sicuramente ma soprattutto sia in grado di dare stabilità in certezza questo credo a prescindere dagli orientamenti politici sia una necessità per il nostro paese. Sì anche perché insomma il farsi una legge elettorale ogni anno e ogni governo è un po' un unico un italiano evidentemente anche se effettivamente come diceva Casini i movimenti politici si evolvono e sono sempre più rapidi soprattutto negli ultimi anni il Movimento 5 Stelle è stato emblematico probabilmente dal libro di scienze politiche visto è difficile vedere un fenomeno che nel giro del narco di 3-4 anni cresce dal 15 al 35% per poi scendere dal 5 o al 7 vedremo poi quali saranno i voti a livello nazionale. Ci fermiamo per qualche minuto torneremo tra pochissimo parleremo invece dell'area sud di Firenze della città metropolitana parleremo di quello che si sta facendo di quello che si farà nei prossimi anni parleremo evidentemente anche di centro sportivo di Fiorentina perché Bagnaripoli in questo momento ha i riflettori puntati proprio su quel colore il viola ne parliamo tra pochissimo restate con noi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ben tornati in studio allora abbiamo parlato delle elezioni in Emilia Romagna siamo con due sindaci Francesco Casini e Cristiano Benucci rispettivamente sindaci di Bagnaripoli e di Reggello vorrei parlare però un po' anche delle loro zone delle loro aree delle questioni principali che interessano i loro comuni partendo però da un tema come dire che è trasversale che riguarda tutti i comuni e che riguarda soprattutto le strategie e le prospettive della città metropolitana stiamo parlando di mobilità in senso allargato allora partiamo dal servizio realizzato da Florence TV proprio sugli investimenti messi in programma dalla città metropolitana poi ne parliamo in studio Consiglio e conferenza della città metropolitana di Firenze hanno approvato a fine 2019 il bilancio di previsione 2020-2022 il nuovo bilancio triennale prevede investimenti per oltre 233 milioni di euro oltre ai 126 milioni di euro per l'edilizia scolastica si contano 90 milioni di euro per viabilità e pianificazione del territorio tra le opere maggiori oltre 27 milioni sono destinati alla variante Chiantigiana 222 di Grassina con la nuova gara per i lavori sulla base dell'accordo con la regione toscana e i comuni interessati e ancora 7 milioni e mezzo per la variante di San Vincenzo a Torri oltre le 2 milioni per la SP69 circonvallazione prunetana secondo lotto 4 milioni e 3 per la SP89 circonvallazione di Rignano grazie al patto per Firenze ciclato nel 2016 sono 8,4 milioni di euro destinati alla superpista ciclabile Firenze-Prato e oltre 15 milioni quelli per il quarto lotto della variante alla SRT 429 altre opere in corso riguardano la passerella di San Donnino e la passerella ciclabile con Piobbi Vallina Allora eccoli qua questi insomma passati in rassegna alcune delle opere principali e tra l'altro come dire una delega quella della mobilità gestita del trasporto pubblico locale gestita proprio da Francesco Casini che ha individuato delle priorità diciamo nel territorio su cui mettere mano beh sì ci sono degli interventi che sono anche di lunga data penso alla variante della Chiantigiana penso alla variante San Vincenzo a Torri penso alla variante di Rignano e la stessa di Impruneta su cui nei prossimi anni andremo a ripartire con i lavori o a concludere i lavori laddove sono eseguiti però credo sia di rimarcare con grande importanza anche tutta una serie di interventi sul tema della mobilità sostenibile il servizio parlava appunto di 8,4 milioni per i percorsi pedociclabili tra Firenze e Prato ci sono degli investimenti importanti grazie anche ai bandi ottenuti negli anni scorsi dal governo centrosinistra il bando periferie si realizzeranno in parte sono alcuni già partiti i lavori per la passerella tra Badia a Settimo e San Donnino e a breve partiranno i lavori anche per la passerella sull'Arno tra Vallina e Compiobbi ci sono anche altre iniziative importanti su cui stiamo lavorando estremamente importanti penso ad esempio a un sistema di collegamento anche dal Chianti verso Firenze il Chianti è l'unica zona che non è provvista di una rete ferroviaria non c'è treno non c'è i collegamenti sono sicuramente più complessi che in altre zone la città metropolitana vuole rispondere a queste esigenze di trasporto pubblico locale anche con dei progetti innovativi come il Jumbo Bus ne abbiamo parlato anche nelle settimane scorse non sono progetti futuristici ma sono progetti molto concreti che con le amministrazioni comunali andremo a progettare nei prossimi mesi per partecipare ai bandi ministeriali che si terranno tra giugno e luglio una serie di parcheggi scambiatori di hub che comprendano anche la zona del Valdarno Figline ma anche la zona del Mugello la realizzazione di un ponte sulla Sieve nel comune di Vicchio tra Vicchio e Borgo San Lorenzo e insomma ci sono veramente tanti interventi che daranno anche senso in qualche modo a quello che è un ruolo della città metropolitana che è oggettivamente un ruolo ancora estremamente importante quando si parla in termini di infrastrutture di viabilità di mobilità sostenibile e quello che ci siamo prefissati insieme a Sindone di dare una spinta forte in questi prossimi cinque anni è d'accordo Benucci è questa un po' la chiave per tenere insieme un po' tutta l'area metropolitana cioè l'infrastruttura lo scheletro come dire soprattutto quello viario per non far sentire i territori che sono un pochino più distanti dal centro abitato appunto non troppo distanti come Reggello tra l'altro lei anche presidente dell'Unione dei Comuni della montagna fiorentina si chiama a buon tempo oggi come si chiama Valdarno Valdisena Valdarno Valdisena certamente noi viviamo in luoghi in Mugello Valdarno Valdisena che non sono prossimi alla città e che hanno bisogno di sentirsi parte integrante alle dinamiche delle metropolitane vivere in queste zone vuol dire avere servizi più lontani vuol dire problemi di mobilità degli studenti degli operai problemi con i treni e quant'altro la viabilità e le infrastrutture è chiaro che quando si parla di investimenti sui nostri territori è sempre una notizia positiva occorre un'attenzione come giustamente diceva il collega Casini sulle infrastrutture per la viabilità quelle che sono state programmate sono infrastrutture importanti occorre continuare ad investire in sinergia tra regione città metropolitana sul trasporto pubblico locale perché comunque quella è la chiave di volta per consentire il mantenimento delle condizioni di vita nei territori periferici o ci sono servizi per andare alle stazioni e per andare verso i punti di interesse generale altrimenti diventa impossibile per una coppia di giovani vivere in territori periferici e noi dobbiamo forcire il problema dello spopolamento delle aree marginali perché lo spopolamento produce degrado produce difficoltà di vita produce la chiusura degli esercizi commerciali e quindi è un deperimento delle comunità e questo è un problema serio tra l'altro appunto sul trasporto pubblico locale c'era anche tutta una partita giocata sull'assegnazione al gestore unico insomma è stata travagliata visto poi i ricorsi sono stati fatti anche lì sembra si sia arrivati poi a una conclusione quindi in qualche modo questo dovrebbe poter agevolare nei tempi futuri anche gli investimenti o comunque il rapporto che si crea con i territori da chi dalla ditta che gestirà il servizio Casini c'è un altro punto importante poi le faccio poi le domande anche su Bagnaripoli però il tema delle piste ciclabili perché come dire viene considerato è stato considerato a torto in passato un po' secondario in realtà lo si è visto bene in un territorio che ha una vocazione turistica molto forte e che ha insomma delle bellezze innegabili anche dal punto di vista naturalistico riuscire a collegare territori anche piuttosto lontani sulla mappa geografica con le piste ciclabili diventa fondamentale fa parte di quello sviluppo prima di tutto che è responsabile dal punto di vista ambientale e quindi come dire anche molto moderno in questo senso ma che poi ha anche delle ricadute economiche può avere delle ricadute economiche importanti ma nel modo più assoluto fa parte di uno dei tasselli più importanti della mobilità sostenibile questo vale sia per i territori cittadini dove può essere davvero un'utile alternativa all'uso dell'auto assolutamente utilizzabile assolutamente sostenibile sotto tutti i punti di vista per cui da lì sicuramente ma può essere indubbiamente per un territorio come è quello toscano come un territorio come è quello della città metropolitana di Firenze anche collinare di grande pregio può essere francamente sicuramente un elemento anche di sviluppo turistico per cui i percorsi anche collinari che sembrano per certi versi magari meno facili da percorrere in realtà possono invece rappresentare un utile strumento di marketing territoriale e di promozione turistica sono progetti che ci sono tra l'altro allo studio ma sicuramente quello su cui adesso è concentrata la città metropolitana insieme alla regione uno dei progetti forse più significativi è la Cilopista dell'Arno che la regione toscana si è posta all'obiettivo di portare avanti inserendo una serie di trasselli che la città metropolitana sta portando avanti a compimento di questo percorso lamentavamo prima proprio le due passerelle sull'Arno tra Campi Visenza e Scandici e tra Fiesole e Bagnaripoli che avranno proprio la funzione di collegare le sponde attraverso un sistema ciclabile poi non dimentichiamo la Cilopista tra Firenze e Priato e che quella sarà di assoluto interesse è estremamente importante non lo era per l'ex? Sono oggi fondamentali sono oggi passa molto della modernità passa da lì ricordo è una mutata però ricordo una mutata in realtà fu una cosa molto seria perché poi gli costò le dimissioni al segretario del commissario insomma della Lega segretario della Lega a Prato quando disse le piste cilabili a Prato che utilizzavano soltanto gli immigrati poi da quel momento fu sostituita diciamo in realtà le piste cilabili appunto come dicevamo sono strategie proprio nello sviluppo di un territorio ma anche in territori rurali anche più collinari anche tra Firenze e Prato è anche una zona molto industriale molto congestionata dal traffic quindi ha maggior ragione no? uno pensa che piste cilabili soltanto là dove è bello il territorio in realtà possono essere utili anche per recongestionare il traffic assolutamente no devono essere però piste cilabili vere percorribili con i minori intoppi possibili per quello che è possibile in un territorio comunque piuttosto complesso e anche compresso come è quello fiorentino però sono progetti che hanno un qualche modo proprio portano avanti l'essenza modernità ma ripeto questo vale per i territori cittadini ma anche i territori più rurali anche o collinari perché le prospettive di collegare frantoi cantine alla potenzialità si porta dietro veramente una grande potenzialità anche di marketing territoriale sì anche perché Benucci è cambiato un po' anche il modo di fruire il territorio sia da parte dei turisti che vengono insomma apprezzano sempre di più metodi di turismo molto più lenti molto più tranquilli ma anche insomma anche dal turismo interno poi dai fiorentini da chi insomma vuole farsi come dire prendersi qualche ora o qualche giornata libera di relax evidentemente territori anche come quello di Reggello come quelli della provincia fiorentina diventano strategici proprio per una modalità slow diciamo così di rifluire il territorio no? non c'è dubbio ormai chi viene nel nostro territorio sia dalla città sia da altri territori italiani o esteri viene per trovare diciamo un'oasi di pace di tranquillità per riposarsi in fondo per godere appieno di un territorio che ha tante potenzialità noi abbiamo l'esempio di Vallombrosa dove tante persone nei fine settimana estivi vengono su per scappare dalla calura e che cosa chiedono? di fare una passeggiata in tranquillità e in sicurezza e abbiamo fatto per questo insieme alla città metropolitana la scelta di fare una viabilità a senso unico per fare un percorso pedonale delicato in cui le persone possano camminare in sicurezza e trovare un percorso benessere chiamiamolo così tra le foreste di Vallombrosa ed è stato molto apprezzato dalle persone ho ricevuto quest'anno tante mail in cui ci ringraziavano per questa scelta e credo che come dire questo sia un esempio tra i tanti e se ne possono fare nei vari itinerari legati ai cammini di fede legati ai cammini enogastronomici legati ai cammini culturali che ormai si stanno sviluppando per valorizzare le tante emergenze che abbiamo nel nostro territorio assolutamente assolutamente allora siamo quasi in chiusura a Francesco Asini devo chiedere necessariamente del centro sportivo della Fiorentina intanto come dire per la cronaca giovedì sera si voterà in consiglio comunale per l'adozione del piano attuativo che è la variante al regolamento urbanistico e al piano strutturale per realizzare appunto la nuova casa viola poi tappe serrate e una sorta di cronoprogramma ce lo può dare insomma si certo il cronoprogramma abbiamo dato nei mesi scorsi di fatto non ci siamo discostati particolarmente rispetto a quello che era il nostro collino di marcia che è una notizia perché di solito si dà una data no 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 abbiamo messo le basi basi concrete devo dire un ringraziamento a fatto anche agli uffici del comune di Bagnaripoli alla stessa Fiorentina e ai suoi progettisti perché credo si sia fatto un ottimo lavoro che va nell'interesse del territorio di Bagnaripoli ma direi di tutta la città metropolitana di Firenze io penso anche Cristiano Benucci il sindaco di Reggello che non è soltanto un grande tifoso della Fiorentina anche lui può dire può sicuramente condividere il fatto che questo ha un valore aggiunto per tutti i territori allargati a sud di Firenze ma per tutta la città metropolitana di Firenze finalmente diamo anche una casa alla Fiorentina perché è il primo investimento concreto il primo patrimonio che la società Viola disporrà e il cronoprogramma è quello che ci siamo dati nei mesi scorsi quindi adozione della variante è già giovedì 30 giovedì pomeriggio ci sarà questo primo passaggio fondamentale che segue tutto un percorso tra l'altro già avviato con il Consiglio Munale del 28 ottobre scorso e quindi partecipazione commissioni consigliari e adesso dopo l'adozione ci sarà tutta la fase di osservazione fino ad arrivare all'approvazione che contiamo in Consiglio Munale che avverrà nel mese di giugno luglio per poi arrivare il rilascio di permesso a costruire nel mese di settembre e ottobre anche in base a quelli sono i tempi stessi della Fiorentina per la redazione dell'ultima fase progettuale che compete ovviamente a loro insomma io penso e il Presidente ha omisso l'obiettivo di inaugurarlo entro entro due anni e mezzo dall'inizio di questo anno quindi nel 2022 è assolutamente concreto che cosa ha fatto Rocco Comisso per farli innamorare così tanto di Bagnarripoli e di lei in particolare perché anche nella conferenza Stapa fu ripresa da tantissimi in cui parlò dello stadio e lo giò lei personalmente anche il modo di fare di Bagnarripoli talmente tanto che qualcuno ha detto non è che poi lo stadio sceglie di farlo a Bagnarripoli lo escludo mi metterò fuori dalla discussione stadio assolutamente però effettivamente il Presidente è una persona davvero molto semplice noi ci siamo presentati con grande semplicità però con la concretezza della voglia di fare di ritenere questa una grande opportunità più luogo per il nostro territorio un progetto di altissimo livello che qualificherà sicuramente anche darà nome a Bagnarripoli noi siamo molto orgogliosi di questo poi la semplicità del Presidente io sono rimasto quello che sono e quindi nella semplicità ci siamo trovati e siamo diventati siamo entrati assolutamente in sintonia sono contento che ci sia questa nuova proprietà perché devo dire il Presidente al di là di tutto e lo testimone è il fatto che per l'ennesima volta ritorna in Italia per seguire la Fiorentina in Coppa Italia dà dimostrazione che c'è la volontà di far bene per la Fiorentina qui entro e mi metto la giacchetta tra Viola però effettivamente c'è la volontà di far bene per la Fiorentina e questo primo investimento lascia ben sperare non era scontato e non era nemmeno dovuto e speriamo visto che ci sono dei momenti dei tunni importanti che attendono la Fiorentina il primo è domani sera evidentemente contro l'Inter in bocca al lupo ai Viola in bocca al lupo a Grazie a tutti.